15 anni! 15 anni! 15 anni della mia gioventù! 15! Questa corte condanna l'impotata Jolene Cujo a 15 anni di reclusione da scontarsi nel carcere di massima sicurezza del penitenziario statale di Green Dolphin Street. Sentiamo che cos'hai combinato, perché sei finita qui? Sono innocente. Questo penitenziario ha un livello di sicurezza altissimo, è un carcere di massima sicurezza. Se non ti sei portato almeno 100 o 200 dollari, questo ti costerà sicuramente la vita. Non capisco, perché mi sta succedendo tutto questo? Qualcuno verrà qui a farti visita. Dovrei assolutamente stare lontana dalla sala delle visite. E questo che cosa sarebbe, invece? Sembrerebbe essere un ciondolo. Aia! Tuo padre, dopo aver divorziato da tua madre, le ha chiesto di dartelo nel caso ti fossi trovata in qualche guaia. Padre, sei tu. In questo mondo c'è qualcosa di più orribile della morte. E sono sicuro che sta succedendo proprio qui, in questa prigione. Ma è stato lui a pianificare tutto. Persino l'incidente. Perfino. Se saltasse da quella finestra, credete che morirei? Che ne pensate? Poco prima di essere spedita in questo penitenziario, ho raccolto da terra quell'affare. Sono venuto per portarti via. Ma che diavolo mi sta succedendo? Hai ottenuto un potere estendo, non è vero? Stone Ocean. Ho intenzione di liberarmi per sempre da questo oceano di pietra.